Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Sono qui con il professor Telmo Pievani, professore universitario, evoluzionista e filosofo. Il professor Pievani l'ho contattato perché c'è stato un punto di intersezione grazie al libro che ho visto pubblicizzato, Planet Book, un libro realizzato da 40 ragazzi che hanno raccolto oltre 200 fotografie in tutto il mondo per far capire cosa sta succedendo al nostro pianeta negli ultimi anni. Il bello di questo libro è che è stato sì curato dal professor Pievani, ma è stato realizzato direttamente dai ragazzi che si sono impegnati per cambiare il nostro futuro. Una cosa molto importante è che i ricavati dai libri vanno in progetti di ricerca su queste tematiche. Noi con Sigillo Sicuro, come ben sai, ci occupiamo di decarbonizzare le case, cioè togliere il gas dalle case, sostituire le caldaie con sistemi completamente elettrici, andando soprattutto su impianti esistenti e anche su impianti a radiatori. Credo che piccole azioni di tante persone, visto che siamo oltre 7 miliardi di persone in questo mondo, possono effettivamente dare un grande risultato. Sì la politica è importante, ma penso che l'efficacia arrivi proprio dal piccolo gesto di ciascuno e in questo credo è come decarbonizzazione domestica. E penso che i professionisti idraulici salveranno il pianeta, è un po' assurdo, però sono proprio loro che poi realizzano queste cose e che ci permettono di vivere senza gas. La politica avrà un suo ruolo, gli scienziati anche, però effettivamente se manca poi l'installazione, la mano d'opera, la concretezza, tutto rimane su un libro. E l'altro giorno ho fatto un sogno, forse perché siamo immersi in questo Covid, siamo immersi in queste notizie negative, e sognavo che mio figlio, adesso ha 4 anni, a 15 anni andava in giro con i suoi amici con il casco e l'ossigeno. Perché? Perché l'aria era irrespirabile. L'inquinamento ne impediva la serenità di respirare tranquillamente come stiamo facendo oggi. Mi sono svegliato da quel sogno e ho detto no, non può essere, non possiamo sicuramente continuare così e dobbiamo comunque fare dei piccoli gesti per cambiare il mondo. Allora con il professor Pievani vorrei affrontare alcuni temi trattandosi di un evoluzionista, quindi con una visione ampia di quello che è successo, di quello che sta succedendo e di quello che succederà al nostro pianeta, iniziando a parlare anche di cambiamento climatico. Diciamo che è un dato di fatto, lo vediamo. Non c'è mese che passi dove il telegiornale non parli di qualche alluvione, di qualche catastrofe, di qualche uragano. Ci sono morti, c'è sempre qualche disastro. E quindi negli ultimi anni abbiamo cambiato il mondo e lasceremo un debito sicuramente ai nostri figli che sono nativi in questo cambiamento climatico perché... Prima di continuare con il tuo video, mi dispiace interromperti, lo so che è sempre una rottura di scatole, però Sigiliosicuro.it merita davvero, guardalo. È una rete di installatori che ti aiuta a vivere senza gas, a togliere il contatore, con centinaia e centinaia di casi già realizzati di famiglie che ora vivono senza gas. È una figata pazzesca. E poi c'è il canale YouTube, cerca Samuele Trento, iscriviti e clicca sulla campana a fianco. Ci sono centinaia e centinaia di video che ti aiuteranno a fare la tua scelta consapevole. E poi c'è un canale Telegram, di cui trovi il link qui sotto nella descrizione del video. Un sacco di novità, strategie e approfondimenti su come trasformare la tua casa in 100% elettrica sfruttando il tuo impianto, anche se hai radiatori. Una figata pazzesca. A differenza nostra, che abbiamo visto il mondo prima, dove non c'erano questi cambiamenti, i nostri figli si stanno già adeguando a questa cosa. E quindi, professore, le chiedo da evoluzionista come vede questa cosa e che idee si è fatto. Beh, grazie innanzitutto e un saluto a tutti e anche il tuo gruppo, il tuo network che ci sta ascoltando. Innanzitutto ti ringrazio di aver citato Planet Book perché quello è un progetto a cui tengo molto, è stato un lungo lavoro e come giustamente hai detto tu è stato un confronto intergenerazionale nel senso che noi volevamo che questo anno contrasto, che è una grande agenzia di foto, non le grandi fotografie, Salgado, McCarrie, eccetera, ogni anno fanno un libro dedicato a un tema monografico e proprio per esattamente le ragioni che indicavi tu hanno scelto nel 2020 dedicato all'ambiente. Quindi scelgono 200 foto, le più belle dell'anno, le grandi fotografie, le fanno commentare a un autore. Però io volevo che fossero commentate da ragazzi giovani perché sono appunto i nativi climatici che dovranno trovare delle soluzioni che noi oggi forse nemmeno immaginiamo, di avanzamento anche delle tecnologie che usate voi, giustamente, dicevi, no? I voi tecnici che poi dovete decarbonizzare davvero le case. Ma ricordiamolo anche, noi a questi ragazzi, ai nostri figli, no? Ne abbiamo due, tu, tre, io, siamo già cinque. Alle prossime generazioni noi dobbiamo essere molto realisti, sappiamo che noi consegniamo un debito, un debito ambientale molto grave e questo, come la Greta Thunberg e tanti altri hanno detto giustamente negli anni scorsi, è una questione di ingiustizia perché stiamo caricando un prezzo su chi non ha avuto alcun ruolo, alcuna responsabilità nel generare il problema. Quindi è una grande ingiustizia. Così come una grande ingiustizia il fatto che chi paga poi di più il riscaldamento climatico sono i paesi più poveri, i popoli che ancora una volta meno hanno contribuito a questo problema. Quindi per rispondere alla tua domanda io sono molto d'accordo, nel senso cambiare i comportamenti individuali ha un ruolo centrale, cruciale, per due ragioni. La prima è che riesci comunque a ottenere un effetto. Come ha scritto molto bene Jonathan Safran Foer in quel libro Possiamo salvare il mondo prima di cena, dobbiamo creare un effetto OLA come allo stadio, un effetto di contagio collettivo di buoni comportamenti e quindi compreso quello di carbonizzare gli impianti di riscaldamento energetici delle nostre case. Ma c'è anche un altro effetto che è quello indiretto e cioè che quando si cambiano i comportamenti individuali cambia il consenso collettivo anche su quei comportamenti e la politica che quel consenso deve comunque averlo perché poi alla fine purtroppo è l'unica cosa a cui guardano viene influenzata da questo. Non male. Lei che ha la visione globale di quello che sta succedendo di come sta il mondo di come sta il nostro pianeta tra le varie cure secondo lei la decarbonizzazione è efficace oppure è un palliativo e sono altre le misure da sostenere. No, non è assolutamente un palliativo nel senso che quello che oggi dicono le riviste scientifiche internazionali è una cosa molto chiara e cioè che abbiamo perso un sacco di tempo che dovevamo agire prima che il riscaldamento climatico ormai è una realtà non è che è il futuro siamo già a 1,1 gradi di riscaldamento e ormai tutti i modelli dicono che i due gradi non ce li toglie nessuno quindi i nostri figli vivranno in un pianeta Terra di due gradi più caldo se tutto va bene nel senso che se poi continuiamo a perdere tempo anche nei prossimi vent'anni quei due gradi diventano 3 3,5 e 4 nella seconda metà del secolo e questo fa una grossa differenza perché un mondo una Terra più calda di due gradi è ancora gestibile anche se avrà comunque degli sconvolgimenti molto importanti in termini di desertificazione acidificazione degli oceani innalzamento dei mari fusione dei ghiacciai montani e polari e così quindi comunque è un mondo diverso quello che vivranno i nostri figli e i nostri nipoti però a due gradi diciamo che è molto meno catastrofico di tre gradi tre gradi e mezzo quattro gradi perché a quel punto con i quattro gradi veramente saremmo in grandissima difficoltà quindi abbiamo una grande responsabilità di agire subito quello che ci dicono i modelli è che non è più tempo di dire questo è un palliativo questo no è meglio fare quello piuttosto è meglio fare quell'altro tutti gli esperti dicono bisogna fare tutto insieme cioè bisogna agire come si dice in modo sistemico quindi decarbonizzazione è fondamentale ovviamente non è l'unica azione ce ne sono molte altre da fare ma non ci sono più palliativi o cose più o meno importanti non è più tempo di decidere quali sono le priorità bisogna fare tutte le azioni di mitigazione adattamento al riscaldamento climatico possibili quindi c'è l'efficientamento energetico ovviamente a tutti i livelli c'è andare verso una neutralità una riduzione a zero delle emissioni di gas serra il più possibile entro la metà del secolo questo è quello che dicono i modelli purtroppo non sta succedendo perché grandi paesi come la Cina per esempio o l'India o gli Stati Uniti adesso speriamo che gli Stati Uniti cambino radicalmente politica come sembra stanno facendo un'operazione molto chiara loro dicono noi diamo fondo alle riserve di combustibili fossili finché ne abbiamo perché ci conviene però ci prepariamo già alla transizione con fonti energetiche non fossili ecco questo non è un atteggiamento possibile perché intanto che diamo fondo a tutte le riserve il riscaldamento climatico arriva a tre quattro gradi quindi dobbiamo impedire che questo sia l'andamento la Cina ha detto noi nel 2060 faremo la transizione a sorgenti tutte senza combustibili fossili è troppo tardi il 2060 è troppo tardi per i miei figli e per i miei nipoti interessante interessante punto di vista ci sentiamo onnipotenti sicuramente come umani ma me stesso finché quando non ti senti male magari non hai qualche acciacco di salute spacchi tutto e poi appena hai un minimo raffreddore invece ricorrere i pari e anche con il nostro pianeta ci sentiamo padroni del nostro pianeta e mi è piaciuto molto il progetto della Terra dopo di noi perché pensiamo di essere noi appunto i detentori delle chiavi del nostro pianeta ma in realtà la Terra ha fatto benissimo senza di noi in passato per molto tempo e probabilmente lo farà anche in futuro quindi non stiamo facendo un dispetto alla natura o al pianeta ma ci stiamo solo facendo del male ecco mi era piaciuto quel concetto di traslare il tempo in un anno solare e lascio a lei come spiegarlo che lo sa fare egregiamente sono due provocazioni ovviamente sono due modelli che noi usiamo la Terra dopo di noi è già stato indagato io l'ho aggiornato un po' con i dati più recenti e ti dice una cosa molto semplice cioè che il pianeta Terra può benissimo fare a meno della presenza di un mammifero di grossa taglia chiamato auto battezzato si Homo sapiens e allora tu puoi vedere che cosa succederebbe se da domani mattina non ci fossero più esseri umani sulla Terra e scopri un sacco di cose interessanti ovviamente non è un modello catastrofista o apocalittico che desidera la nostra estinzione al contrario è un esercizio che ti dice mettiamo che non ci siano più umani sulla Terra da domani mattina scopri che la Terra tornerebbe a rifiorire quindi la biodiversità tornerebbe ad esplodere piano piano non ci sarebbero più segni della presenza umana ci sarebbe un pianeta Terra rigoglioso come e più di prima qual è il messaggio non che faremmo bene a distinguerci al contrario il messaggio è non siamo indispensabili non siamo i dominatori di questo sistema purtroppo questo libro è uscito prima del Covid ma il Covid è la dolorosa dimostrazione di questo cioè che la natura non è fatta per noi che la natura può essere molto imprevedibile e molto violenta e molto dolorosa perché noi Homo Sapiens siamo su questo pianeta appunto da pochissimo tempo mentre organismi agenti patogeni come Covid-19 e come SARS-CoV-2 sono in giro da miliardi di anni quindi è sempre un po' questo esercizio che facciamo noi evoluzionisti di invitare il pubblico a decentrare lo sguardo non pensare di essere il centro del mondo ma provare a guardare la natura da un punto di vista più esterno non soltanto umano e antropocentrico il calendario della vita è un'altra provocazione di questo tipo bellissima che ovviamente non è mia è stata inventata la prima volta da Carl Sagan che è un bravissimo è stato un grandissimo astronomo grandissimo divulgatore quello che ha scritto Conta lo scritto del film Conta è stato un grande scrittore di scienza e Carl Sagan una volta propose questo esercizio disse provate ad immaginare un anno solare che comincia il primo di gennaio e finisce il 31 di dicembre immaginatevi che in questo anno solare si sviluppi tutta la vita quindi da quando c'è stato il primo organismo vivente tre miliardi e mezzo circa di anni fa fino ad oggi e così scopri un sacco di cose scopri che per la sta grande maggioranza di questo anno solare la vita è rimasta sotto forma di organismi unicellulari fino al 2 di novembre quindi fino a più di dieci mesi ormai dall'inizio dell'anno la vita è stata dominata da chi? virus batteri altri microbi funghi alghe unicellulari quelle sono le forme di vita fondamentali su questo pianeta sono quelle che regolano i cicli fondamentali della vita e dell'atmosfera di questo pianeta quindi loro sono la biomassa che conta su questo pianeta poi arrivano gli animali arrivano le piante arrivano gli organismi multicellulari come noi i dinosauri ai primi di dicembre si estinguono la vigilia di Natale e poi allora vai avanti e scopri che l'antenato comune tra noi e gli scimpanzè è vissuto alle 10 del mattino del 31 di dicembre cioè soltanto le 10 del mattino dell'ultimo giorno dell'anno vengono fuori organismi come mammiferi come noi e Homo sapiens cioè la nostra specie compare alle 23.32 del 31 dicembre quindi 28 minuti prima della mezzanotte quella è la mezz'ora nostra che ci siamo giocati noi finora rispetto al calendario cosmico questo è un calcolo letterale perfetto cioè non fa una piega e che cosa ti dice? ti dice che noi siamo una specie molto giovane sul pianeta Terra che galleggiamo come una presenza superficiale sopra un oceano sterminato di tempo quindi ancora una volta un esercizio di umiltà di umiltà evoluzionista noi siamo gli ultimi arrivati ed è alquanto arrogante presuntuoso pensare di essere i dominatori di un sistema che è molto più antico di noi quindi ancora una volta questo non significa che dobbiamo sminuirci significa capire qual è il posto dell'uomo nella natura e cioè che la biosfera non è fatta per noi non è una risorsa che noi possiamo sfruttare indefinitamente ma è il sistema di cui noi siamo parte questo dovrebbe essere il grande cambiamento di prospettiva che modelli come questi ti suggeriscono diciamo ovviamente in modo molto narrativo e divulgativo ecco chiaro l'uomo sapiens è furbo si sente molto furbo e in realtà come lo vede l'uomo sapiens cioè sì abbiamo fatto questo passo evolutivo ma ci siamo fatti anche un po' di male abbiamo distrutto qualche specie ecco questo l'uomo sapiens chi è cosa ha fatto ma io diciamo la definizione che io preferisco è quella di una specie ambivalente questa è forse la caratteristica che se tu studi l'evoluzione di l'uomo sapiens è molto evidente fin dall'inizio cioè fin dall'inizio altro che antropocene nel senso che è una cosa molto prima dell'antropocene noi l'uomo sapiens siamo una specie invasiva siamo una specie prepotente fin dall'inizio da quando siamo usciti dall'Africa le prime volte tu vedi che quando arrivano gli l'uomo sapiens l'ambiente cambia viene plasmato per le nostre finalità la biodiversità si riduce cioè noi siamo dei costruttori della nicchia ecologica in cui abitiamo questa è la caratteristica forse più tipica originale nostra lo facciamo molto più di qualsiasi altro essere vivente sulla terra e questo implica che siamo anche una specie distruttiva quindi noi modificando l'ambiente per le nostre finalità basta pensare a cosa è stata la transizione neolitica a cosa è stata l'invenzione dell'allevamento dell'agricoltura cioè abbiamo imparato da domesticare le piante e gli animali per il nostro cibo per le nostre finalità noi oggi vediamo questo vediamo l'agricoltura e l'allevamento come delle attività molto naturali ma in realtà sono state il primo grande tradimento potremmo dire il primo grande impatto umano sul pianeta tant'è vero che abbiamo decretato il successo di poche piante di pochi animali rispetto a tutti gli altri riducendo molto la biodiversità questo gioco è andato avanti negli ultimi secoli si è drammatizzato tantissimo e ricordiamolo visto che citavi la biodiversità i dati che abbiamo in mano oggi sono drammatici Homo sapiens soprattutto negli ultimi cinque secoli ha ormai estinto irreversibilmente più di un terzo di tutte le forme di vita quindi vuol dire che noi con le nostre attività abbiamo distrutto per sempre perché non si torna indietro dall'estinzione tra il 34 e il 35 per cento di tutte le forme di vita questa è una distruzione che non si era mai vista nell'evoluzione neanche quando c'è stato l'impatto dell'asteroide che ha istinto quasi tutti i dinosauri quindi siamo una specie catastrofica però ho detto all'inizio che siamo una specie ambivalente quindi vuol dire che tanto siamo distruttivi quanto siamo creativi e non esiste nessun animale come noi in grado di inventare di immaginare di fare ricerca di scoprire i meccanismi di fondo dei fenomeni naturali e da questi trarre anche nuove tecnologie quindi dentro quell'ambivalenza c'è anche la nostra possibilità di salvezza che sta tutta secondo me nell'intelligenza nell'impegno etico unito sposato con le nuove tecnologie e lo sviluppo perché non credo né alla decrescita felice né al fatto che si debba tornare indietro bisogna andare avanti con maggiore sviluppo un po' con il lavoro che fai anche tu ovviamente l'utilizzo di nuove tecnologie per non tanto salvare il pianeta anche per salvare il pianeta ma per salvare un equilibrio e una possibilità di rapporto sano tra noi e il resto del vivente quindi io direi siamo una specie ambivalente e in futuro questa ambivalenza diventerà sempre più radicale e secondo me ci sarà uno scontro sempre più forte tra gli istinti diciamo predatori umani che vediamo e l'istinto invece di sopravvivenza e di cambiare davvero il nostro modo di comportarci nei confronti della natura chiaro chiaro finché parlavamo mi è mi si è accesa una lampadina di un passaggio che avevo visto su youtube dove si diceva che se prendiamo tutta la massa animale la biomassa animale nel pianeta se non sbaglio più del 60% in realtà o forse anche molto di più è legata all'allevamento quindi è di umassa destinata poi a cibarci ecco non animali che vivono nel loro ambiente perché così è la natura se non sbaglio eh sì questo quando diciamo prima decarbonizzare è un'azione importante ma non è l'unica un'altra che oggi secondo tutti i modelli che tu leggi sulle riviste scientifiche è urgentissima è ridurre gli allevamenti intensivi non solo e non tanto nel mio caso per motivi animalisti cosa che pure è importantissima perché quegli animali sono ehm allevati molto spesso in condizioni veramente pazzesche e non è assolutamente etico come dire far crescere delle creature viventi in quel mondo ma anche se non vogliamo essere animalisti gli allevamenti intensivi sono insostenibili da tutti i punti di vista perché hanno un consumo di acqua un consumo di antibiotici un'emissione di gas serra così elevate che non possiamo più permetterceli abbiamo sottovalutato a lungo l'impatto di queste attività e adesso non sono più davvero non sono più sostenibili quindi come si fa siamo torniamo all'inizio nel senso che ovviamente i nostri consumi incidono e quindi il cambiamento dei comportamenti di consumo avrebbe un grande impatto prima citavo Safran Foer lui dice perché possiamo salvare il mondo prima di cena perché lui dice se solo decidessimo di ridurre di la metà o di due terzi il consumo di carne soprattutto carne rossa questo sarebbe già una rivoluzione perché comporterebbe una riduzione drastica dell'impatto di questi allevamenti intensivi e lui dice una cosa molto intelligente dice questo avrebbe molto più impatto che non l'aumento dell'1-2% delle persone che diventano vegetariane o vegane che pure benissimo ma come dire se tutti gli altri riducessero della metà il consumo di carne rimanendo onnivori questo avrebbe statisticamente un impatto molto maggiore ovviamente gli allevamenti intensivi sono un grande business ci lavorano anche delle persone quindi è chiaro che ci vuole un processo di transizione non è che vogliamo come dire lasciare a casa le persone che ci lavorano perché poi c'è sempre questo ricatto ovviamente da parte del business stiamo parlando di una transizione rispetto a una produzione che è insostenibile e ricordiamoci che paesi come la Cina stanno aumentando tantissimo la richiesta di carne l'invito che io faccio intanto spero che si prendano misure a livello internazionale però quando si va al supermercato e una una bracciola costa pochissimo ricordiamoci che il fatto che costi pochissimo ci piace tanto perché vuol dire che tanti potranno mangiare proteine animali ma vuol dire anche che quella bracciola è stata fatta con delle modalità è stata prodotta con delle modalità insostenibili per l'ambiente quindi dentro quel prezzo basso c'è un costo nascosto di tipo ambientale e sociale e quando noi la compriamo stiamo scaricando questo costo su chi verrà dopo di noi e aumentiamo il nostro debito verso i figli e i nipoti un po' come anche il tema della plastica a me caro come persona non tanto come professionista non seguo questo settore però giusto qualche settimana fa ho smesso di usare bottiglie di plastica perché mi sono veramente stancato di riempire sacchi e sacchi e ho messo un filtro dell'acqua del rubinetto perché era imbevibile ecco non la bevevo per principio ma perché era cattiva di gusto e avevo visto un passaggio suo non tanto sulla plastica sicuramente abbiamo tutti bene fissa l'immagine di questa isola di plastica enorme ma il tema delle microplastiche che di cui pochissime ne parlano e allora lascio a lei sviscerare questo argomento delle microplastiche anche questa è una novità purtroppo nel senso che anche qui la scienza è arrivata solo da poco avevamo proprio non l'avamo vista sta cosa io parlo con i miei colleghi esperti perché giustamente l'emergenza plastica è sui media da tanto tempo e appunto le isole nel Pacifico tra l'altro non c'è solo nel Pacifico ci sono anche nell'Atlantico nell'Oceano Indiano abbiamo riversato in mare una quantità di macroplastiche mostruose però le vediamo quelle perché galleggiano o si intrappolano sul fondo insomma le vediamo quello che non avevamo visto è che stiamo calcolando solo da poco sono le microplastiche quindi quelle più piccole di un terzo di millimetro sono le fibre dovute alla frammentazione della plastica come le macroplastiche inevitabilmente finiscono tutte in mare perché basta fare un conto dove i nostri scarichi prima o poi arriva sempre tutto a mare e abbiamo impregnato il mare di microplastiche la fondazione LM Carthur che è la più importante organizzazione internazionale che si occupa di monitoraggio delle plastiche ha appunto fatto questo calcolo incredibile per cui se andiamo avanti così nel 2050 ci sarà più plastica che pesce nei mari come è possibile perché a forza di tirar fuori dal mare con la pesca intensiva indiscriminata e a forza di buttarci plastiche arriveremo a un equilibrio tra queste due entità che è una cosa mostruosa secondo me tra l'altro parentesi anche la pesca indiscriminata in giro per il mondo non sta affatto diminuendo perché non ci sono normative che possano davvero fermare là sta succedendo per esempio un disastro alle Galapagos in questo momento ci sono un santuario di biodiversità ci sono centinaia di pescherecci battenti strane bandiere di paesi africani ma in realtà sono tutti pescherecci cinesi e stanno facendo un disastro di pesca intensiva intorno al santuario delle Galapagos quindi continuano ad esserci emergenze da questo punto di vista le microplastiche noi a Padova abbiamo noi abbiamo una stazione idro biologica a Chioggia e abbiamo dei biologi marini che adesso si stanno molto impegnanti in questo e hanno cominciato a monitorare quante microplastiche per esempio venendo a noi sfociano nell'adriatico attraverso il Po attraverso il fiume Po e sono venuti fuori dei dati mostruosi cioè il Po scarica in Adriatico una quantità di microplastiche pazzesca totalmente sottovalutata quindi bisogna agire subito e la cosa utile che è stata fatta è vedere da dove vengono queste microplastiche è una cosa interessante perché moltissime di queste vengono dagli scarichi delle nostre lavatrici perché quando noi usiamo tessuti sintetici o il pile o questi tessuti se le lavatrici non hanno dei filtri adeguati cosa su sulle quali adesso si sta ovviamente lavorando si scaricano a grande quantità di microplastiche poi ci sono i pneumatici delle macchine che pure producono delle auto e tutti i mezzi di trasporto su gomma che producono grande quantità di microplastiche poi ci sono le reti ovviamente di pescatori insomma ci sono tutti e poi i cosmetici altro campo di produzione che genera una grande quantità di microplastiche quindi questa è una delle classiche situazioni in cui però possiamo intervenire perché come abbiamo fatto per i gas cloroforo carburi per l'ozono adesso bisognerà imporre che le lavatrici abbiano certi tipi di filtri bisognerà imporre il non utilizzo di microplastiche in tutti i cosmetici e nel frattempo ancora una volta quando si va al supermercato controllare di non prendere una crema solare o un cosmetico con dentro microplastiche eccetera eccetera quindi il gioco è anche quello sempre di fare pressione perché queste normative cambino prima possibile questo è uno di quei casi in cui la scienza scopre qualcosa bisogna poi agire molto velocemente per porvi rimedio sempre a chioggia è stato calcolato senza generare ovviamente panico perché comunque non abbiamo ancora dati sugli effetti però una percentuale consistente del pesce che poi noi andiamo a comprare al mercato del pesce nei suoi tessuti ha microplastiche ovviamente perché se le mangiano perché se impregniamo il mare di microplastiche è ovvio che poi ce le rimangiamo mangiando il pesce e questo non è molto sapiens francamente no per niente anche perché se limitiamo il consumo di carne e ovviamente ci buttiamo un po' più sul pesce che è noto che fa bene ma poi se sappiamo che il pesce è pieno di plastica non è sicuramente sapiens assolutamente ho cercato il pesce ovviamente ma poi per chi si occupa di biodiversità ricordiamo che la plastica è terribile perché soprattutto le tartarughe marine i rettina i cetacei i capodoglio in particolare li troviamo con gli stomaci pieni di microplastiche in particolare le tartarughe perché li scambiano per meduse se le mangiano e i capodogli e quindi poi abbiamo una percentuale ancora più alta rispetto a quella del pesce che riguarda i rettidi e i mammiferi marini che sono sottoposti a una pressione tremenda da parte di plastiche macro e microplastiche quindi bisogna agire subito per ridurre questa tendenza ok bene grazie grazie della chiacchierata perché siamo abituati a scrollare Instagram e vedere i gattini felici o parlare di politica politica come le intendiamo noi in Italia partitica più che politica o cosa ha fatto l'amico e quant'altro invece queste cose si sentono gran poco so che lei è presente spesso alle falde del climangiaro quindi anche dalla sua attività di divulgatore molto importante e vorrei lasciare con un messaggio lascio a lei un messaggio che vorrebbe lasciare a chi ci sta seguendo un messaggio concreto lei comunque per il progresso l'ha ribadito più di una volta anche durante questa chiacchierata che non è per tornare indietro per tornare alla preistoria ma comunque per progredire quindi lascio a lei l'ultima parola prima di salutarci ma guarda ci sarebbero tanti messaggi quello che secondo me adesso è più urgente soprattutto in questa fase è adesso noi siamo ci avviciniamo entriamo in una fase storica in cui la politica deve assumersi delle grandi responsabilità per esempio adesso noi dobbiamo investire tanti soldi tantissimi soldi quindi ci indebiteremo ovviamente ma faremo un investimento quando si fa un investimento economico bisogna farlo con intelligenza nel senso che si decide dove mettere i soldi e quindi si plasma praticamente il nostro futuro allora quello che io dico a tutti adesso è facciamo pressioni politiche in tutti i modi affinché la politica decida saggiamente segua le normative europee quindi investire tantissimo nella green economy investire tanto in ricerca in sviluppo tecnologico in ricerca pura in ricerca di base quella mossa dalla curiosità di conoscere come funzionano i fenomeni naturali in ricerca tecnologica sostenibile eccetera eccetera questo adesso è quello che dobbiamo fare perché la politica purtroppo è evidentemente inadeguata basta ascoltare il telegiornale ogni giorno la sera e si vede benissimo che si discute di tutt'altro rispetto a questi temi che sono i temi fondamentali della nostra vita quindi la politica deve essere scossa e l'unica gli unici che possano scosserla siamo noi nel senso che poi la politica si basa sul consenso di chi li vota quindi dobbiamo fare pressioni politiche farci sentire perché la politica prenda decisioni sagge e lungimirante e monitorare poi i risultati penso che assolutamente che non siamo abituati siamo abituati nel lavoro ma non in altri temi che sì facciamo facciamo ma poi abbiamo raggiunto i risultati sì no forse per poi fare azioni correttive esatto e migliorative in futuro assolutamente sì bene grazie della chiacchierata è stato un piacere ci vediamo quindi su Rai3 e sicuramente magari anche in futuro grazie ancora grazie a te e a tutti gli ascoltatori grazie